La tormentata vicenda di Abruzzo Engineering arriva in Commissione Vigilanza della Regione. La necessità di un chiarimento nasce dalle proteste di buona parte dei 160 lavoratori, che non percepiscono stipendi anche da due mesi. Un campanello d'allarme per una società che l'ex presidente Gianni Chiodi aveva definito un inutile baraccone clientelare, ma che da un passo dal collasso è stata salvata dalla Regione di Luciano D'Alfonso, che con 4,5 milioni di euro acquisitò tutte le quote private, facendola diventare società in house. E ora si attende la sua definitiva uscita dalla procedura di liquidazione, a cui seguirà la patrimonializzazione della società. Sull'operazione ha proespresso a forti perplessità anche la Corte dei Conti, in merito alla possibilità che avrà la Regione di affidare commesse senza gara alla sua società, e sulla tenuta dei conti di Abruzzo Engineering, con conseguente rischio di danno erariale. Perplessità ribadite in Commissione dall'opposizione di Centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Sì, noi le nostre perplessità le abbiamo espresse da sempre, già da quando si voleva portare questa società in house. Adesso c'è anche una pronuncia della Corte dei Conti, vediamo che cosa succederà. Rimaniamo comunque nella nostra posizione, che è quella che avevamo già un anno fa. Di dei opposti i sindacati, in particolare di Leonardo Piccino, segretario regionale FISCAT Cisle, che fa parte del direttorio che deve chiudere la fase liquidatoria. Per lui l'itero è obbligato, la Regione ha salvato Abruzzo Engineering e ora deve investire per farla lavorare. Certo è che ci sono visioni diverse. La precedente giunta riteneva che questa azienda fosse un carrozzone e andava chiuso. Questa giunta pensa invece che possa essere un patrimonio per la collettività. Il problema è verificare nel concreto se, dandogli gli strumenti giusti, questa azienda può assolvere questo ruolo. Perché è chiaro ed evidente che non ci possiamo accollare un altro carrozzone. Se la giunta regionale ha fatto questo tipo di scelta, deve dimostrare con gli strumenti validi che questa azienda può camminare con le sue gambe.